Ciao a tutti ragazzi siamo su Critical Ops e siamo pronti per affrontare una nuova partitozza Allora ragazzi è uscita come tutti voi sapete una nuova modalità Finalmente è uscita la modalità Gun Game che non vedo l'ora di provare insieme a voi Allora siamo... eh questa mappa non è tanto facile però è anche carina Ok siamo pronti abbiamo subito la partita Gun Game Ragazzi vediamo di cosa si tratta Ok ok si parte si parte subito andiamo a controllare com'è la situazione Ah la modalità Gun Game la facciamo a squadre ragazzi non la sapevo questa cosa Ci sono anche dei compagni di squadra Pensavo fosse una sorta di tutti contro tutti vediamo Attenzione 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 Ogni quanto Ehi bello attenzione Vediamo se 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 riusciamo a fare un'uccisione completa Soprattutto anche per capire Se cambiamo arma a ogni uccisione O più di una In teoria a ogni uccisione Forse prima è stata un'assistenza E perciò non mi è stata cambiata Vediamo questo di fronte a noi ragazzi Lo uccidiamo Oh attenzione Oh attenzione Lo uccidiamo Si cambia arma Attenzione ragazzi si va di fucile Oh cacchio qui c'è un covo Cos'è questa roba qua ragazzi Ok cambiamo arma nuovamente Attenzione qui di fronte a noi Ne abbiamo un altro Ma cosa sono tutti bloccati Cosa stanno facendo questi Perché sono così fermi Non lo sappiamo Però noi ne approfittiamo Continuiamo a fare uccisioni ragazzi Questi qui nel frattempo che Riescono a capire che cosa sta succedendo Noi intanto avanziamo E continuiamo a fare le nostre uccisioni ragazzi Cambiamo arma nuovamente Di fronte a noi ragazzi Ne abbiamo uno Ne abbiamo uno Ed ecco che adesso Finalmente Siamo di cecchino Quindi troviamo una postazione Bella solida Bella furba Tipo come questa E cerchiamo di farci un'uccisione Vediamo se ce la facciamo A farne una ragazzi Attenzione Oh Finalmente col mirino Attenzione ragazzi Attenzione Voglio controllare là sopra Se c'è qualcuno Ok Dai Ce la facciamo a fare un'uccisione E' anche lento Poi dopo a caricare Ok Attendiamo che qualcuno Si faccia avanti Non vorrei camperare per molto Sinceramente Ma non vorrei neanche Farmi beccare subito Guardate questo Dove cacchio si era imboscato Ragazzi Oh No 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 Volevo tirare Volevo sparare ragazzi Sinceramente Però non Non mi andava di sparare A distanza ravvicinata Così senza mirare Vorrei fare un'uccisione Da cecchino Davvero cecchino Oh eccolo Eccolo Vittoria 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 Comunque Abbiamo fatto 8 uccisioni Ci siamo divertiti Direi E Avviamo Un'altra partita Si ragazzi Facciamocene un'altra Perché è veramente divertente Questa modalità Oh Ci voleva finalmente Una modalità del genere In questo gioco Perché Sinceramente Già Non è che mi piace Tantissimo sto gioco Per il fatto che non si mira Ragazzi Perché Come ben sapete Sono uno che a volte Spara senza mirare E ok Ma è un conto E sparare senza mirare Perché Mi viene così E un conto È quando non c'è proprio La possibilità E Che sta succedendo ragazzi Quindi Ok ragazzi Torniamo in battaglia Nuovamente Non so cosa sia successo Non l'ho letto bene Sinceramente Ma ce ne freghiamo Noi andiamo avanti ragazzi Ma non si può saltare giù da qua No eh Sì che si può Eccoti qua Bello Bello Uccisione Eccoti qua Bello Eccoti qua Oh no Cazzo Erano in due Erano in due Dovevo rimanere bello In boscatino Lì dietro Invece di Entrare del tutto Che poi Mi hanno fatto la festa In due Normale Ci sta Andiamo avanti ragazzi Avanziamo Proviamo a tornare Nuovamente in quella zona Oh oh C'è qualcuno che ci spara Da queste parti Eccoti Eccoti Mortacci tua Ok Ok Va bene Va bene Sei stato più furbo Ci sta Ci sta Ci sta Ma noi Non ci arrendiamo ragazzi Torniamo nuovamente In quella zona Cazzo Cazzo Oh Eccoti 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 Bello Eccoti Eccoti Ah ciao Bello Si cambia arma Nuovamente No 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 Non mi sparare Comunque abbiamo fatto Tre uccisioni Al momento Guardate questo Con il suo bel Coltellaccio Sembra un boomerang Chi è che spara Chi è che spara Chi è che ha sparato Attenzione Eccoti qua sopra No no E' uno dei miei E' uno dei miei Ragazzi Carica l'arma Carica l'arma Carica l'arma Di fronte a noi C'è qualcuno Eccoti qua Guardate che volo Che gli ho fatto fare Ma di fronte Sono pronti Ad attenderci Comunque C'è chi è arrivato A sette uccisioni Noi in questo momento Siamo a 4 uccisioni Ce la possiamo ancora battere Ragazzi Ce la possiamo ancora battere Stiamo attenti 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 Ciao bello Ciao bello Ciao Attenzione Attenzione Stanno arrivando degli altri Ragazzi Stanno arrivando Stanno arrivando C'è qualcuno che arriva I mortacci No Ma fregato All'ultimo momento Ce la stavo quasi Per fare Ragazzi Ce la stavo quasi Per fare Guardate questo Come si diverte Col cecchino Noi di fronte A noi Ci abbiamo Il canguro Che mettiamo Al tappeto Siamo a 6 uccisioni Al momento 6 uccisioni Vai Che si va avanti Ragazzi Eccolo lì No no È uno dei miei Ragazzi Ho sprecato Dei colpi Attenzione Ci abbiamo qui Uno Eccoti qua Dove sei Dove sei Dove sei Vieni qua Bello Volevi fare il giro Bello tranquillo Eh Volevi fare il giro Bello tranquillo C'è qualcuno Qui ragazzi Eccoti qua Eccoti qua Eccoti qua Eccoti qua E ti becco Oh cazzo Siamo a 8 uccisioni Ok Adesso siamo di cecchino E adesso viene il bello E mo viene il bello Ragazzi Emo se riusciamo a fare qualcosa qua Carica l'arma Bello Ah bella sta arma Che quando Una volta caricato Torna in modalità mirino Che può essere comoda Ma anche scomoda Eh Non è detto che sia Ok E dai E dai Te ne approfitti Perché c'ho il cecchino E non lo so usare Te la infilo in bocca La canna del fucile La prossima volta Oh Oh No Cazzo Ok C'è chi è arrivato Già a 12 Gli mancano le ultime 3 uccisioni Per vincere il match E noi Qui di fronte Ci troviamo Cazzo Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ok 7 uccisioni Ragazzi Non riusciamo a andare Non riesco ad andare avanti Ragazzi Io il cecchino Eh l'ho ammazzato O mi hanno graziato O mi hanno detto Guarda Non sei buono col cecchino Ti cambiamo arma Lo stesso O l'ho ammazzato Magari Senza rendermene Neanche conto Attenzione 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 No no E il cecchino Di nuovo No Ragazzi Di nuovo Di cecchino No Cazzo Eh dai Eh dai Chi è che mi ha ammazzato Ok Siamo comunque A 7 uccisioni Ragazzi Non riusciamo ad avanzare Non riusciamo ad avanzare Dai che ce la fai Dai che ce la fai Dai che ce la fai Cacchio Per pochissimo ragazzi Lo so Lo so Non riesco Non riesco Proprio usarlo Sto cecchino Comunque siamo a 8 uccisioni Nuovamente di cecchino Sono molto contento Della situazione Non so da dove mi stanno sparando Ragazzi Non so da dove mi sparano Non so da dove mi sparano Stai attento bello Stai attento bello No è uno dei miei È uno dei miei Rimaniamo qua E vittoria Vittoria ragazzi Ok E concludiamo qui questa partitozza Abbiamo fatto 8 uccisioni Ci siamo divertiti La modalità game Sicuramente Molto più divertente Delle altre modalità Almeno Secondo me Visto che comunque Si riescono ad utilizzare Lo stesso Tutte le armi Nelle altre modalità Almeno in gun game C'è più divertimento E niente ragazzi Grazie a tutti Il vostro ascolto Mi raccomando Spoliciate se vi è piaciuto il video E ci vediamo Al prossimo appuntamento Ciao a tutti